Siamo con il presidente Giuseppe Pasini al termine di Feralpisalo Teramo 3 a 1, è arrivata finalmente la prima vittoria in campionato al termine di una bella prestazione, questa oggi molto convincente. Sì, direi una bella prestazione, soprattutto devo dire che si è sbloccato Caracciolo, Ferretti quando è entrato ha spaccato la partita, ha fatto un grande aerogol, una dimostrazione che davanti abbiamo una batteria di attaccanti sicuramente importanti, cosa che noi benunale l'abbiamo sempre detto. Nel primo tempo abbiamo sbagliato tanto, sotto porta bisogna un po' essere un po' più precisi, però comunque la prestazione c'è stata, portiamo a casa i tre punti, muoviamo la classifica e poi domenica avremo una partita molto delicata a Bergamo con l'Albino Leffe, partita difficile, loro giocano un ottimo calcio, però penso che andremo là per giocarcela. È una squadra che sta crescendo, adesso ci saranno comunque tanti impegni ravvicinati, l'occasione anche per trovare convinzione e muovere la classifica. Certamente, adesso la classifica secondo me è ancora presto per guardarla, bisogna aspettare prossime tre o quattro partite dove siamo, però è importante partita dopo partita, concentrarci bene, entrare decisi, concentrati, la squadra c'è, siamo un po' in emergenza difesa perché anche oggi forse abbiamo perso Tantardini, però è arrivato in settimana da metto che la società si è mossa subito, tempestivamente, però insomma la squadra c'è, deve un po' ritrovarsi, questo è vero, ecco siamo partiti col freno tirato, è in dubbio, però insomma io credo che anche il mister ce la stia mettendo tutta perché questa squadra diventi veramente una grande squadra. Grazie a tutti.